Uno spot sociale contro la violenza alle donne. È uno spot molto particolare che tocca ogni etnia, ma soprattutto ogni fascia di età. Ho voluto cinque coppie di età diversa, in particolare per la prima volta si parlerà anche delle coppie over 70-75. Questo perché? Perché molte donne tra le mura domestiche di quell'età, le nostre nonne, purtroppo non denunciano quelli che sono i maltrattamenti. Quindi si parla con dei volti non solo dello spettacolo, della cultura e anche del giornalismo. Io ho voluto tra i tanti volti Silvi Lubamba. Perché Silvi Lubamba? Perché è l'unica che può veramente parlare di quella che è la realtà delle donne nei carceri. Sono motivata a girare questo promo ideato da Viviana Bazzani, non per esperienza personale grazie al cielo, ma anche perché, essendo stata tre anni in carcere, sono stata in contatto con delle detenute che, ahimè, per difendersi dalla violenza hanno dovuto usare la violenza. E quindi, siccome sono trovate non tutelate dalla legge, purtroppo sono finite in carcere per difendersi dalla violenza. Quindi ho avuto modo comunque di capire e comprendere tutte le fasi di questa brutta piaga. Ed ecco perché mi trovo qua, ed ecco perché quando Viviana mi ha proposto di girare questo promo contro il femminicidio, io mi sono subito messa a disposizione. Il promo è stato ripreso tutto a Torino, presso la NST Fotostudio. L'idea di questo spot nasce nel giro di proprio pochi giorni, proprio perché io sono stata sempre molto vicina alle donne, dovuta ai miei trent'anni di esperienza nella polizia di Stato, e conoscendo bene quelle che sono le difficoltà. Le donne del 1985, quando non si parlava assolutamente di violenza alle donne, vi posso assicurare, non volevano assolutamente denunciare, per quale motivo? Perché le stesse donne della famiglia dicevano di non denunciare. E adesso siamo ormai nel 2020 e i problemi sono sempre gli stessi, la paura di denunciare. Quindi bisogna sempre denunciare perché l'uomo purtroppo non cambia mai. Qual è il messaggio soprattutto di questo spot sociale? È che bisogna iniziare sin da bambini a insegnare che la donna deve essere amata e rispettata. Quando Viviana mi ha proposto questo spot per questa causa nobile, ho accettato di buon grado, sia come immagine mia che come studio, perché ci tengo particolarmente a sensibilizzare l'attenzione su questo tema molto grave e sono convinto che più se ne parla e più faremo in modo che le persone che subiscono violenza possano denunciare subito questi disagi in modo da prevenire azioni talvolta drammatiche. Questo progetto, questo spot, sarà visibile anche al suo radio ICN New York perché la comunità italo-americana è sempre presente e sempre vicina a queste tematiche molto forti. Alle spalle possiamo vedere anche il regista di questo spot, Alessio Mangiuz, che ha fatto davvero un grande lavoro. Vedremo tante coppie, ma un unico comune denominatore. Hashtag ti insegno a lasciarmi. Allora, in tre, due, uno... Un saluto a tutti i telespettatori di Rete7 da Silvi Lubamba e Viviana Bazzani. A presto! Ciao!